Che vuoi? Lorenzo Riccardi, uomini e donne, bacia Sara Affifella e rifiuta Niloufar Al trono classico di uomini e donne tra Lorenzo Riccardi e Sara Affifella scatta il bacio, il corteggiatore ha ripreso la conoscenza con latronista, dopo aver scelto Niloufar. Inizia una nuova settimana e si rinnova l'appuntamento con uomini e donne. Oggi pomeriggio, lunedì 5 marzo, andrà in onda un nuova puntata del trono classico. Si partirà con latronista Sara Affifella. La settimana scorsa la ragazza ha riaccolto tra i suoi corteggiatori Lorenzo Riccardi, che dopo lunghi tentennamenti si era dichiarato per Niloufar a dati. Nella loro seconda prima esterna i due cenano insieme e appaiono molto emozionati e imbarazzati. . Lorenzo fa sedere Sara sulle sue gambe e a un certo punto le dice, non ce la faccio più e la bacia. Latronista e il corteggiatore escono all'esterno e per Sara si illumina la scritta Niente paura. . Dopo l'esterna, Luigi Mastroianni si alza e lascia lo studio, in seguito dall'atronista. . Mentre Sara è fuori con Luigi, in studio si accende una discussione tra Niloufar e Lorenzo. . Latronista lo inculpa di essere stato falso con lei, il corteggiatore si difende dicendo che in quel momento si sentiva di dichiararsi per lei, ma che quando vede Sara non capisce più niente. . Il web fa il tifo per Sara e Lorenzo. . Sul web i fan del programma di Maria De Filippi hanno accolto con entusiasmo il ritorno di Lorenzo Riccardi alla corte di Sara, penso di aver più ansia per domani, di vedere il bacio di Sara e Lorenzo che della scelta in sé cancelletto Omini e Donne, ha scritto ieri una ragazza in attesa della puntata odierna. . . . In tanti difendono latronista, accusata di non aver scelto Luigi, ma se a Sara piace Lorenzo con i sui 100 milioni difetti che volete farci? Non è che perché a voi piace Luigi deve piacere anche a lei. . . . . . . . . .